Musica Conferenza stampa prima di campionato Virtus che batte gli avversari per 4 a 0 Qui con noi ai microfoni di Vivicentro, Michele Talia, buonasera Michele Ciao, buonasera Michele, quanto è valso segnare il primo gol di questo campionato importantissimo per voi? È stato molto importante segnare i primi minuti, così ci ha dato molta fiducia per continuare a combattere Michele, questo esordio di campionato vi vede appunto vincitori di 4 gol Quali sono i vostri obiettivi come squadra, ma soprattutto per te Che proviene dal gruppo del Santa Maria La Carità e che sei stato appunto uno dei protagonisti della promozione in eccellenza L'anno sculso è stato un anno molto importante per me perché ho realizzato 16 gol stagionali Quest'anno sono pronto a rifare gli stessi gol e anche a dare una mano per combattere ai vertici alti della classifica Grazie Michele, alla prossima Grazie a tutti